Ciao a tutti ragazzi, sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo nel secondo e ultimo episodio di Within's Carry. Buona visione. Allora, vediamo quali porte possiamo aprire. Mi sa che possiamo aprire questa qui ora. Vero? Sì. Ok. C'è un crocifisso lì. Non so come lo possiamo prendere, però iniziamo a prendere questo aggeggio. Ma io ti vengo contro, non ho paura di te. Eeeh, sei qui ora. Com'è possibile? Questa? Oh, si è aperta. Sì. La macchina fotografica. Ma esattamente cosa devo fare? Una donna sta urlando qui dentro. Che è successo, raga? Che sta succedendo? Raga! Un foglio. Le persone si uccidono a vicenda. Eh sì, quindi è questo virus che fa uccidere le persone a vicenda. Le rende aggressive. Raga. Oddio, che sta succedendo? La porta qui si è aperta. Dove abbiamo sentito le urla di una donna? Uh, il cancello numero due. Andiamo. Chi cazzo era? Porca troppa. Ok, mancano due pezzi. Andiamo al cancello numero due. Ecco. Ma continua o è finito? Penso siamo stati solo storditi perché il nostro protagonista sta parlando ora. Sì, esatto. Camera da letto. Raga, è passato qualcuno di qua. È diventato giorno. Magia. Ok. Che ho preso? Una piccola scatola rossa contenente un ingrediente segreto. L'ultimo pannello. Ok. Allora, la chiave per il terzo cancello è un piede di porco. No, sto sbagliando strada. Uh, no, aspettate. Ho rotto le assi di legno. Posso uscire di qua? Ma è un corpo impiccato? Ma è la donna altissima. Questo è il cancello numero tre? Sì. No, raga. Chi è? Entriamo qui. Che è successo? Scusate, non ho capito. Lo scaletto? Una trappola? Cos'è? Non vedo niente. Raga, che faccio? Torno indietro? Non so che fare. No, 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 no. Se n'è andata? Perfetto. Mi fa solo piacere. Signora? Signora, dove è finita? Raga? C'è qualcuno qui dentro? No, no, non mi interessa. Ma si è aperta la porta del bagno? Sì, raga. Sì. Ah! Puoi sentirmi? Ma è il nostro amico? Non ho parole. Non ho parole. Oh, raga, ma questo è l'aggeggio per vedere se ci sono fantasmi? Ok, ah, sono stato sculacciato dalla signora. Che è successo? Allora, sto in cucina. Ma posso uscire? La porta è aperta. Via! Ah, andiamo al molo, raga. Ok, ha cambiato voce? No, raga. Non c'è nessuno a salvarmi. Mi ha detto di andare in camera da letto. Dov'è la camera da letto? Di qua? Che è successo? La porta rossa? Sì. Ah, mettiamo qui? Il fusibile? Delle scale che portano al piano di sopra. Ma chi è quello? Noi tre per la vita. Ora riposa... ...con le mie figlie. La forza era troppo potente da superare. Ah, forse contro la sua volontà il protagonista si è ucciso. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.